Grazie a tutti. 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 Perché? Perché? Perché il bambino vuole spiegarsi. Vuole spiegare le cose. Di esprituire gli effetti. Vuole risalire le cause. ecco perché è impossibile eliminare il problema di Dio perché la scienza lo può mica spiegare tutto la scienza può dirti come si è formato il mondo seppure riesce a dirlo ma non può dire da dove viene il mondo chi l'ha fatto il mondo? il bambino solo chiede chi l'ha fatto il mondo e poi il bambino dice ma io chi mi ha fatto? chi mi ha fatto? ha voglia tu a spiegargli che adesso non si dice più che ti ha portato la ciconia si dice che papà e mamma ti hanno fatto no? è così tutta sorridente la nuova scienza che non parla più di cicogne ma parla invece spiega al bambino l'origine vera da dove viene guarda che tu sei stato nella pancia della mamma nove mesi sapessi come stavi bene ti portava dappertutto la mamma beh il bambino prende atto prende atto ma poi si chiede il bambino ma chi li ha fatti il papà e la mamma? allora subito incominciando però a impaurirsi la maestrina di scuola moderna no? che spiega tutto con la scienza dice ma il papà e la mamma li ha fatti il nonno e la nonna ma il bambino che non è cretino scusatemi l'espressione che mi è scappata il bambino dice ma chi li ha fatti il nonno e la nonna? e la maestrina di scuola moderna che comincia a sudare freddo dice ma il nonno e la nonna li ha fatti il bisnonno e la bisnonna anche il bambino fa ma il bisnonno e la bisnonna chi li ha fatti? beh allora a questo punto persa la pazienza la maestrina moderna tira fuori il libro di scienza e dice vedi vedi e mostra un bel paio di scimioni no? mostra un bel paio di scimioni e dice vedi da dove deriviamo noi deriviamo dalla scimmia a che il bambino comincia a storcere il nasino perché vedendo quei peli e quei ceffi a pensare che ha simili antenati non è che sia molto contento però gliela fan digerire deriviamo dalla scimmia solo che strada facendo abbiamo perso la coda e i peli ma il bambino dall'età dei perché anche se lì per lì resta in qualche modo attratto dalla figura della scimmia perché pensa toh i miei genitori mangiavano le noci di cocco e le banane come sono buone però si chiede ma chi l'ha fatta la scimmia? chi le ha fatte le scimmie? allora tu spiega spiega con l'evoluzione la maestrina moderna spiega con l'evoluzione che tutto è venuto da da un da qualcosa di di primitivo e il bambino dice ma chi l'ha fatto? questo qualcosa di primitivo chi l'ha fatta la materia iniziale? da dove viene questo mondo? da dove viene questo mondo? e finalmente se c'è un po' di buonsenso sente da qualcuno forse dalla nonna perché ormai i genitori non ti danno più queste risposte finalmente il bambino sente dalla nonna il mondo l'ha fatto Dio ma il bambino non si accontenta e dice ma Dio chi l'ha fatto? Dio chi l'ha fatto? capito? il principio di causalità che c'è nella mente umana è tremendo no? si cerca sempre la causa di un effetto ma Dio chi l'ha fatto? qui evidentemente molti rimangono con lo stadio lì Dio chi l'ha fatto? ebbene cari amici allora bisogna spiegare al bambino che Dio non è stato fatto da nessuno perché se l'avesse fatto qualche d'uno non sarebbe Dio è colui che ha fatto tutti è come il sole che illumina tutto ma non è illuminato da nessuno è colui che ha fatto tutti ma non è stato fatto da nessuno è il principio di tutte le cose e qui naturalmente si apre si manifesta lo spirito metafisico dell'essere umano no? che soltanto l'essere umano è capace di arrivare a Dio ebbene cari amici quando il bambino è arrivato a Dio a capire Dio cioè non a capire Dio nel senso che la mente umana riesce ad afferrare ciò che Dio è nella sua essenza ma nel senso che ha capito che Dio è l'essere che non è causato di nessuno ha capito che di Dio non si può dire chi l'ha fatto di Dio non si può dire chi l'ha fatto Dio perché se l'avesse fatto qualcuno non sarebbe Dio no? come dire chi illumina il sole? il sole non lo illumina nessuno chi illumina il sole? no il sole è colui che illuminato da nessuno illumina tutti così dire è colui che fatto da nessuno ha fatto tutto ebbene cari amici se il bambino è un po' perspicace cioè se il prete quando l'ha battezzato gli ha fatto ingoiare un bel po' di sale cioè è un bambino intelligentino un bambino di quelli che non si fa mica intimorire a farsi le domande guardate tutto quello che vi dico in termini scherzosi cari amici questa mattina sono di buon umore perché c'è una bellissima giornata di sole ebbene cari amici quello che vi dico è tutto spiegato in un meraviglioso trattato di psicologia di un grande filosofo francese che l'ha scritto in carcere questo trattato Emmanuel Mounier dove dedica dei bellissimi capitoli sull'età dei perché del bambino ebbene cari amici quando tu hai spiegato al bambino che Dio è colui che ha fatto tutto senza essere stato fatto da nessuno sapete che strana idea può venire in mente al bambino voi pensateci e vedete se per caso non vi è venuta in mente anche a voi questa idea ma ma Dio ma perché è lui Dio e non sono io Dio ma perché Dio è lui e non sono io perché non sono io Dio perché è lui Dio è una domanda molto pericolosa ma che nasce sorge nello spirito umano perché Dio è lui quello che è Dio e non sono io per qual motivo io non sono Dio per qual motivo io non sono Dio perché il motivo è lui Dio e non io ebbene cari amici questa domanda si pone si pone nello spirito umano perché non sono io Dio questa domanda si pone anche quando un uomo non riconosce di porsela ma in realtà riconosce che se ne è posto quando in pratica non crede più in Dio professi il suo ateismo teorico pratico e si comporta da padre eterno quando un uomo decide in cor suo che Dio non c'è e lui stesso si comporta da Dio scelendo lui ciò che è bene ciò che è male una libertà assoluta si comporta da padre eterno quell'uomo si è posto alla domanda perché non sono io Dio e poi è deciso ma io voglio essere Dio io voglio essere Dio di me stesso io voglio essere Dio della mia vita io sono Dio ma siccome anche gli altri dicono io sono Dio qui c'è il pericolo naturalmente dallo sgomitamento caspita qui ci sono tanti che dicono io sono Dio come facciamo a starci tutti beh allora si arriva a dei patti beh io sono Dio nella mia famiglia sono Dio nel mio ufficio sono Dio nel mio sapete che gli animali hanno la loro zona di influenza guai a chi fica il naso nella loro zona di influenza anche gli uomini hanno la loro zona di influenza guai a chi mette in dubbio che io sono Dio nella mia zona di influenza e poi naturalmente le guerre fra gli uomini perché ci sono le guerre fra gli uomini nella società ma anche fra i stati e le nazioni perché ognuno deve stabilire qual è la sua zona di influenza dove esercita la sua deità guai se uno viene a esercitare la mia deità la sua deità nel campo della mia deità guai a chi entra nella mia corsia ecco allora nell'uomo c'è c'è sicuramente cari amici questo interrogativo che si pone un interrogativo pericolosissimo perché Dio è quello e non io e molti decidono chi gliel'ha detto che è Dio a quello chi gliel'ha detto a quello che è Dio io sono Dio e siccome sono in tanti a dire io sono Dio ognuno cerca di essere Dio almeno nella sua sfera di influenza come l'animale vuole essere Dio nel suo territorio e vuole che ci fichi il naso lì dentro voi provate con un gatto che ha già il suo giardino a mandarci un altro gatto e lo fa scappare oppure un cane che ha già il suo giardino da custodire mandateci un altro cane tu vedi tu che lotta perché qui in questo giardino dice il cane io sono Dio così fanno gli uomini ebbene cari amici dove è nata per prima questa domanda perché io non sono Dio dove in quale mente in quale spirito si è formato per primo questo interrogativo perché Dio è quello e non io ma guarda un po' che prepotente quello che prepotente vuole essere Dio lui ma chi gliel'ha detto che è Dio lui chi l'ha nominato Dio quello chi l'ha eletto Dio io voglio essere Dio perché non io perché non io chi ha fatto per primo questo ragionamento e ha deciso perché non io è stato Lucifero amici il peccato degli angeli è molto semplice Lucifero è creato Lucifero vuol dire portatore di luce nel fulgore del suo splendore un essere intelligentissimo bellissimo potentissimo superiore a tutti gli angeli si è detto ma perché perché Dio deve essere quello e non io io voglio essere Dio come Dio io voglio essere Dio al posto di Dio e ha voluto detronizzare Dio cioè carpire rubare a Dio la sua Deità Lucifero è il primo ladro vero ma di quei ladri che non rubano i quattrini è il primo ladro della storia della creazione perché Lucifero volle rubare a Dio la sua Deità quanto era accecato come si fa a rubare a Dio la sua Deità eppure Lucifero volle rubare a Dio la sua Deità perché si era posto l'interrogativo perché non io Dio perché deve essere Dio quale non io perché non io perché non io direttore è quello perché non io vescovo ma proprio perché non io Papa tutte le volte che è nato l'antipapa nella storia perché c'era qualcuno che diceva perché non io Papa no e Lucifero fa perché non io Dio e si è autonominato Dio al posto di Dio e Michele gli ha risposto chi è come Dio cioè gli ha detto abbassa la cresta chi è come Dio perché Michele vuol dire chi è come Dio Michele con questa affermazione chi è come Dio ha sbalzato Lucifero dal cielo cioè ha ricordato Lucifero che era una creatura tu sei una creatura non sei Dio tu non meriti adorazione chi è come Dio ha ricordato Lucifero di essere una creatura di essere fatto da Dio dipendente da Dio e questo atto di umiltà naturalmente ha meritato a Michele e ai suoi angeli la visione beatifica e questo atto di superbia ha meritato a Lucifero e a tutti i suoi seguaci la dannazione eterna perché Lucifero ha preferito ha preferito all'atto di umiltà ha preferito la dannazione Lucifero all'atto di umiltà e alla visione beatifica ha preferito Lucifero la dannazione eterna pur di poter dire io sono Dio e di avere degli esseri razionali che lo adorassero piuttosto che fare un atto di umiltà e avere come ricompensa la beatitudine eterna della contemplazione di Dio pur di godere di questa sua autonomina di questa sua autoelevazione a Dio e potessi con piacere vi dire io sono Dio sapeste quanti indemoniati io ho sentito dire io sono Dio io sì che sono un Dio buono non quello quello che va in croce quello che vi chiede i sacrifici io sì che sono un Dio benefattore che vi do tante belle cose vi do le donne vi do i portafogli vi do il regno vi do tutto no io sono Dio non quello è Satana che parla attraverso gli indemoniati no ebbene cari amici Lucifero ha preferito ha preferito la dannazione eterna pur di poter dire io sono Dio di avere un suo regno l'inferno ed avere appunto dei seguaci che lo adorassero perché Lucifero si fa adorare dagli altri demoni e dagli uomini che lo seguono si fa adorare come Dio è il tentativo di rubare la divinità di rapinare la divinità in questo tentativo sono caduti Lucifero e i suoi angeli ci cadono molti uomini ebbene cari amici la divinità non si rapina con la superbia la divinità ce la offre Dio a coloro che l'accettano con cuore umile e riconoscono di essere delle piccole creature gloria 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 e gloria gloria Sto spiegando il numero 460 e la quarta ragione che il catechismo adduce per la quale Dio si è fatto uomo. La prima ragione è che il verbo si è fatto carne per espiare i nostri peccati, per sanare la natura umana, per riconciliarci con Dio, per aprirci le porte del paregiso. Seconda ragione il verbo si è fatto carne perché nell'incarnazione della figura di Cristo si manifestasse a noi l'amore di Dio. La terza ragione è che il verbo si è fatto carne per essere nostro modello di vita santa. Infine il verbo si è fatto carne perché noi diventassimo partecipi della natura divina. Ebbene cari amici al riguardo noi abbiamo incominciato a riflettere appunto su come c'è nell'uomo questo desiderio in qualche modo di essere partecipi della natura divina. Abbiamo ieri spiegato come nella storia dell'umanità non manchino delle concezioni del mondo, delle concezioni di Dio nelle quali l'uomo stesso è innalzato al rango di Dio. Anzi abbiamo spiegato come l'apertura del Libro del Genesi è proprio la caduta del peccato. Parlo del peccato di Adamo ed Eva è in qualche modo la riproduzione di quella che è stata la caduta degli angeli. Gli angeli con Lucifero a capo che non vogliono essere soggetti a Dio ma vogliono essere Dio al posto di Dio. E abbiamo visto che il serpente ha insinuato del suo nelle vene, il suo veleno nelle vene di Adamo ed Eva e cioè ha insinuato questo desiderio di essere come Dio. Se ne mangerete dell'albero della conoscenza del bene e del male sarete come Dio. Dove qui l'albero della conoscenza del bene e del male significa cari amici la autodeterminazione cioè la scelta che facciamo noi per decidere ciò che è bene e ciò che è male. Ecco questo modo bene preciso concreto di essere Dio cioè non accettareva Dio la legge morale, non accettareva Dio ciò che è bene e ciò che è male ma decidere noi ciò che è bene e ciò che è male e magari chiamare il male col nome di bene e il bene col nome di male. Sono tutte forme concrete con le quali l'uomo pone se stesso sull'altare cioè si autonomina Padre Eterno. E cari amici dobbiamo veramente prendere in considerazione quindi questo veleno che ci è stato iniettato da serpente che è rimasto nella natura umana e fa parte di quella malattia che l'uomo contrae col peccato originale. Cioè l'uomo col peccato originale contrae una malattia. Questa malattia ha molti sintomi, molte manifestazioni. Abbiamo visto che questa malattia si manifesta in una forma di capacità di dominare i propri istinti, gli istinti del corpo e quindi da qui i malvetti vizi della gola, della lussuria e poi tutte le inquinamenti della psiche, la gelosia, l'invidia, l'ira, no? Ma cari amici c'è anche l'inquinamento dell'intelligenza, la superbia. La superbia. Noi ci portiamo questo veleno che intacca anche la parte superiore dell'uomo e quindi l'uomo incline alla superbia. Quale superbia? Non la superbia di chi ha un giusto sentimento di sé e del proprio valore. Quello gli psicologi distinguono fra ciò che è la superbia e ciò che invece è la giusta considerazione di se stessi, cioè essere consapevoli del proprio valore di persone, no? Essere consapevoli anche dei doni che Dio ci dà ma essere consapevoli anche dei doni che hanno gli altri. La superbia è distinta dalla vanagloria, cioè da quella desiderio che è certamente anch'esso riprovevole ma non così grave come la superbia vera, il desiderio di essere approvati, di essere lodati, di autoesaltarsi, di autocomplimentarsi, il desiderio di sentirsi dire com'è bravo, non c'è nessuno come lui ma guarda che brava persona, ma guarda com'è buona. Oppure lo diciamo noi, io sono il Erpio, il meglio di tutti, no? Ebbene, siamo nel campo della vanagloria. La superbia ha la sua forma più elevata, cari amici, è quella che si manifesta in qualcosa di molto più grave, cioè non soltanto nel desiderio di imporre il proprio io su tutti gli altri e quindi non accettare la comunione, non accettare i propri limiti, non accettare di essere piccoli, ma soprattutto la superbia si manifesta nei rapporti con Dio e cioè si manifesta nel non accettare la dipendenza da Dio, nel non accettare di essere delle creature. In fondo l'ateismo, cari amici, non si può parlare di ateismo a mio parere come se fosse una etichetta che copre atteggiamenti identici. L'ateismo è un'etichetta che copre gli atteggiamenti più diversi, quindi possiamo ben dire che c'è ateismo e c'è ateismo. C'è un ateismo di chi lega Dio con l'intelligenza perché non vede o perché è un superficiale, ma però nella sua coscienza obbedisce a una legge morale, quindi coltiva in sé un sentimento religioso che magari è il sentimento dei propri doveri, della propria onestà, del rispetto degli altri. C'è un ateismo addirittura che è onesta ricerca di Dio, sforzo di cercare Dio, sforzo di capire Dio. È più che negazione di Dio, è una negazione di concetti inadeguati di Dio. Quindi c'è un ateismo che potremmo chiamare più a parole che a fatti, più di concetti che un ateismo morale. Però c'è anche un ateismo più profondo, l'ateismo dei cuori più che delle menti, l'ateismo che è affermazione del proprio io al posto di Dio, del proprio io oppure anche dell'entità a cui si appartiene, che può essere un partito, uno stato, un gruppo, perfino un gruppo religioso nelle forme di fanatismo. Ebbene, cari amici, questo ateismo che è sostituzione di Dio, che è negazione col cuore di Dio, ed è affermazione del proprio io con tutto il cuore, il proprio io amato con tutto il cuore, invece che Dio amato con tutto il cuore, questo culto di se stessi che molte volte convive con una falsa fede, perché ci sono degli atei veri che dicono di credere in Dio, ma utilizzano Dio per il proprio io. Ci sono delle persone religiose che dicono di credere in Dio, ma poi utilizzano Dio per il proprio io, si servono di Dio, si servono della religione. Cioè Dio è sgabello dei propri piedi, no? Ebbene, cari amici, questo è un ateismo pratico, perché il vero ateismo qual è? Vi dicevo che ci sono molte configurazioni di ateismo e quindi va valutato nelle sue reali manifestazioni, insomma parla di atei in generale, bisogna vedere quale ateo hai davanti, no? Il vero ateo, anche se dice di credere in Dio, è quello che preferisce a Dio il proprio io, che fa di Dio lo sgabello dei piedi del proprio io, oppure addirittura che afferma la divinità del proprio io. Noi abbiamo molte volte queste forme di ateismo così strane che si insinuano anche nelle esperienze religiose più elevate, nella storia delle religioni e delle filosofie religiose. Noi, cari amici, abbiamo questa mescolanza strana da una parte di una ricerca religiosa molto profonda, una ricerca religiosa molto forte che parte dalla sete di Dio che c'è nel cuore dell'uomo, poi sbocca in quelle affermazioni, che poi hanno trovato anche ospitalità in grandi religioni, in quelle affermazioni dove non si distingue più l'anima da Dio, dove si proclama la divinità dell'uomo, dove si proclama la divinità dell'anima, dove si dice che Dio è lo spirito umano. Perfino nella filosofia occidentale abbiamo continuamente queste manifestazioni di pensiero secondo le quali lo spirito umano è Dio, secondo le quali lo spirito umano si è incarnato in una razza, per esempio, superiore, in uno stato, lo stato etico, in un partito, il partito Dio, il partito che stabilisce la legge morale. No? Ebbene, cari amici, queste sono tutte forme, come vi ho spiegato ieri, di divinizzazione dell'uomo, ma non quella divinizzazione di cui parla la scrittura, di cui parla la lettera di Pietro, che dice che il verbo si è fatto carne perché diventassimo partecipe della natura divina. Questa di cui vi ho parlato è una malattia dello spirito, è la superbia dell'uomo che si manifesta in modi più imprevisti e anche più sottili, no? Più sottili, perché molte volte è la superbia dell'uomo che si manifesta in forme altamente religiose, come quelle forme del misticismo orientale, dove si dice che il proprio sé, loro non parlano di io, ma parlano di sé. Il sé, che sarebbe la propria coscienza, il proprio io spirituale, il sé è Dio, è il sé con la S maiuscola. No? E si dà al sé, che sarebbe proprio io, la propria anima, si danno delle connotazioni divine, per cui si parla del sé eterno, del sé splendente, del sé che si contempla, dove porta molte volte la meditazione delle grandi religioni orientali. La meditazione delle grandi religioni orientali, sia quella zen, sia quella yoga, sia quella del buddismo, sia quella dell'induismo, la grande meditazione porta non tanto alla comunione con Dio. Ci sono anche, per la verità, anche queste tendenze più ortodosse, più vicine a noi, nelle grandi religioni orientali, cioè dove l'io è creatura che si, in qualche modo, incontra con Dio in un rapporto di amore e di dipendenza. È la corrente devozionale. C'è anche una corrente devozionale nelle religioni orientali. sia nell'induismo, sia nel buddismo, dobbiamo essere onesti. C'è una corrente devozionale che è quella del popolo semplice, che è quella del popolo umile, dove appunto il popolo semplice e il popolo umile ha molto la percezione di essere creatura, perché le difficoltà della vita lo rendono sempre molto umile e molto consapevole della propria fragilità. E allora il rapporto con Dio, dal popolo semplice, dal popolo umile, anche dell'Oriente, del Grande Oriente Asiatico, un rapporto devozionale. Cosa vuol dire devozione? Di dipendenza. La piccola creatura si sente dipendente dal creatore e si avvicina al creatore per chiedere protezione, aiuto, sostentamento e amore anche. Ebbene, cari amici, la corrente però più colta, più evoluta, per esempio, dalle grandi religioni orientali, che poi è approdata anche qui da noi, qui in Europa, negli Stati Uniti, in Occidente, è una corrente ben diversa. È una corrente dove si parla del proprio io, cioè del sé, in termini divini. In termini divini. Per cui si parla del sé, dicendo, con attributi divini. Si parla del sé come della perfezione, del sé come dalla pura luminosità, del sé come la perfetta autocoscienza, del sé che è divino, del sé che è immortale, no? Eccetera, eccetera. Però in questa esperienza del sé, che poi è la meditazione, è la meditazione lo strumento che porta questa esperienza del sé, no? È la meditazione. Ebbene, in che cosa consiste questa meditazione? Mica in un rapporto con Dio, mica in una comunione con Dio, consiste nella contemplazione di se stessi. Io contemplo me stesso, mi immergo in me stesso, mi beo di me stesso. Sono una monade nella totale solitudine. È tutto il contrario della comunione. Non so più in comunione né con Dio né con gli altri. Sono una monade senza porta e senza finestre. Il paradiso consiste nel immergersi, nell'immergersi nel proprio sé, che è Dio. No. Ora, questo, cari amici, a mio parere è uno degli esiti che pure alla sua punto di partenza aveva un'aspirazione religiosa, c'era una fame di Dio, una fame religiosa, è uno degli esiti a cui porta quello che ho chiamato il tentativo dell'uomo di diventare Dio per rapina. Cioè, nella storia umana, in tante manifestazioni, sia religiose sia politiche, il tentativo dell'uomo di diventare Dio per rapina. L'uomo che si proclama Dio, che si proclama identico a Dio. L'uomo che proclama Dio il partito. L'uomo che proclama Dio lo Stato. Oppure, a partire dal secolo scorso, l'umanità. A partire dalla rivoluzione francese, in fondo, no? Poi, con la religione umanitaria, la New Age e tutte le sue propaggini, è l'umanità stessa, nel suo insieme che è Dio. È lo spirito umano presente in tutti gli uomini che è Dio. È la religione umanitaria che proclama non c'è altro Dio di fuori dell'uomo, ma non di quell'uomo, di questo mondo, dell'uomo in generale. Dio è lo spirito di tutti gli uomini e quindi è l'umanità Dio, è l'umanità quindi che si dà le leggi morali, è l'umanità che adora se stessa, l'umanità che adora quindi i suoi simboli, no? Adora la maternità, la virilità, adora lo Stato, adora i simboli dello Stato che sono i leader dei partiti, no? Le grandi statue, a Mao, a Lenin, a Hitler, no? Oppure queste forme di autoadorazione, che l'umanità fa a se stessa sono infinite, adora il suo pensiero, l'umanità adora le sue conquiste scientifiche, no? L'umanità adora le conquiste del suo progresso, eccetera, no? Quindi oggi c'è proprio questa affermazione di fondo, cioè che è l'umanità nel suo complesso che è Dio. È l'epoca della religione umanitaria ma che ha avuto degli antecedenti. Perché l'umanità già in passato ha adorato i capi politici, ha adorato i partiti, ha adorato gli stati, gli stati come incarnazione di Dio, basti pensare alla votrina di Hegel, il filosofo tedesco dell'Ottocento, Dio che si incarna nel popolo tedesco, Dio che si incarna nella legislazione tedesca, Dio che si incarna nello Stato tedesco. Tutto questo naturalmente prepara ai totalitarismi. Oppure la votrina marxista, non c'è Dio, il partito è tutto. Il partito stabilisce le regole, ciò che dice il partito è vero anche se è falso, no? Servire il partito è come servire a Dio. Si deve morire per il partito come si muore per Dio. Anche il partito ha i suoi martiri, no? Per il partito bisogna essere poveri, per il partito bisogna dare tutto. Ecco, quindi c'è sempre stata questa tendenza alla divinizzazione nella storia dell'umanità. In Oriente, vi dicevo, c'è stata la tendenza della divinizzazione dell'individuo. In Occidente pura tendenza alla divinizzazione dello Stato o dei gruppi sociali. Oggi c'è una tendenza attraverso questa congerie di esperienze religiose che la New Age a proclamare la divinità dell'umanità. Non c'è Dio, c'è l'uomo. E la famosa frase che ho sentito dire da tanti giovani, cioè non è Dio che ha creato l'uomo, è l'uomo che ha creato Dio, ma l'uomo ha creato Dio, se l'ha inventato perché non se n'era accorto che lui era Dio, che lui era Dio. Vi ricordate quel famoso romanzo di Benson, Il padrone del mondo, dove le critiche che si facevano al pape erano queste, quel povero uomo crede ancora in Dio ma non sa che lui è Dio, non sa che lui è Dio. Ebbene, cari amici, che cos'è questa tendenza? Questa tendenza alla proclamazione della divinità dell'uomo. Che tendenza è? È molto semplice. È la tendenza già manifestata chiaramente nel libro del Genesi al terzo capitolo, il capitolo della caduta, la tendenza che c'è dopo il peccato originale, ma c'era anche prima del peccato originale, perché questa tendenza Satana l'ha sfruttata prima del peccato, anzi il peccato originale consiste proprio in questo, nel tentativo dell'uomo di sostituirsi a Dio, cioè diventare Dio per rapina. È il peccato di Lucifero. In che cosa consiste il peccato di Lucifero? Diventare Dio per rapina, proclamarsi Dio al posto di Dio. E in che cosa consiste la vittoria di San Michele Arcangelo? nel dire, nel far l'atto di umiltà. Ma chi è come Dio? Ma tu chi credi di essere? Così ha risposto Michele a Lucifero. Ma tu chi credi di essere? Dicendo così ha vinto, perché questa espressione era l'atto di umiltà che Michele faceva riconoscendosi creatura di Dio. San Michele Arcangelo dicendo chi è come Dio riconosceva a se stesso come creatura di Dio e sconfiggeva il tentativo di Lucifero di diventare Dio per rapina. Lucifero ha spinto Adamo ed Eva a diventare Dio per rapina. Se ne mangerete diventerete come Dio. Nella storia dell'umanità è presente continuamente questa tentazione, questa inclinazione al male che si manifesta nel tentativo dell'uomo di essere Dio al posto di Dio, di diventare Dio per rapina, di essere lui l'unico Dio in questo mondo. In questo mondo ci sono io e qui comando io. Ecco, noi viviamo in un'epoca in cui questa tendenza dell'uomo a proclamarsi Dio al posto di Dio si manifesta nella proclamazione della divinità dell'umanità. Si dice che Dio non c'è, si dice che ci siamo sbagliati. Non è vero che Dio ha creato l'uomo, è vero che l'uomo ha creato Dio, ma adesso l'uomo cresciuto, l'uomo che si è reso consapevole ha capito di essere Dio. D'altra parte, questa è anche la filosofia dominante dall'Ottocento in avanti. Noi abbiamo all'inizio del secolo in Italia due grandi maestri come, maestri tra virgolette, come Gramsci e come Gentile. Che cosa diceva Gramsci? Dio non c'è, ma Dio è il partito, la secolarizzazione totale, la eliminazione di qualsiasi trascendenza. E il partito è il partito comunista naturalmente. E cosa diceva Gentile? Gentile diceva, che pure era uno spiritualista, Gentile diceva appunto che Dio è il pensiero, il pensiero umano è Dio, il pensiero umano. Quindi la più alta manifestazione di Dio, secondo Gentile, era la storia del pensiero umano. Per Gramsci la più alta manifestazione di Dio è il partito comunista. Due forme di divinizazione di cose umane, perché il partito comunista è un'organizzazione sociale, il pensiero umano è un prodotto dell'uomo. Quindi è ben radicata anche qui da noi questa cultura della divinizazione dell'uomo che oggi consiste in una cosa molto semplice. In un ateismo di massa, nella proclamazione che Dio non c'è, in un ateismo diciamo così a livello di mass media e nell'affermazione che l'uomo, l'uomo è Dio, non c'è altro Dio al di fuori dell'uomo. Ebbene cari amici, noi abbiamo bollato questa tendenza che già la Bibbia l'aveva evidenziata nel peccato degli angeli, nel peccato di Adamo e Deva. Il peccato degli angeli, il peccato di Adamo e Deva, consisteva nella volontà degli angeli e di Adamo e Deva di essere Dio al posto di Dio. Questa è, cari amici, il tentativo di essere Dio per rapina. Ebbene, l'insegnamento cristiano dice che per rapina, e lo mostreremo nella prossima catechesi, l'uomo non diventa Dio. Per rapina l'uomo si stacca da Dio e annienta se stesso. L'uomo può diventare partecipe della natura divina solo per grazia. Gloria, 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 Siamo arrivati cari amici al numero 460 e il completamento è questo numero del capitolo del Catechismo della Chiesa Cattolica nel quale ci si chiede appunto perché il Figlio di Dio si è fatto uomo e abbiamo visto che il Catechismo offre alla nostra meditazione quattro ragioni fondamentali il Figlio di Dio si è fatto uomo innanzitutto per redimersi dal peccato per riconciliarci con Dio, per sanare la nostra natura umana malata e per aprirci le porte del Paradiso il secondo motivo perché Dio facendosi uomo attraverso Gesù Cristo non abbiamo conosciuto l'infinito amore di Dio Terzo motivo, il Verbo di Dio si è fatto uomo per insegnarci a vivere secondo Dio Gesù Cristo è il nostro modello di santità e anche di umanità pienamente realizzata e quindi la vita cristiana è una imitazione di Cristo è una sequela, cioè un seguire Cristo e infine la quarta ragione per cui il Figlio di Dio si è fatto uomo è perché noi diventassimo partecipi della natura divina a questo riguardo, cari amici, noi abbiamo già più volte analizzato come c'è nell'uomo il desiderio di superare l'uomo come diceva il famoso filosofo, teologo, scienziato Pascal nel 1600 in una frase famosa diceva l'uomo pass l'uomo cioè l'uomo supera l'uomo, sorpassa l'uomo evidentemente è un'esperienza che questa possiamo fare veramente tutti cioè nell'uomo c'è un'apertura all'infinito all'infinita conoscenza, all'infinito amore l'uomo va al di là di questo mondo e per il suo spirito spalancato all'infinito o per il suo cuore che ha bisogno di un amore assoluto, eterno l'uomo varca le porte del tempo non c'è dubbio al riguardo e quindi quante volte gli uomini si sono posti in problema di Dio ma in rapporto a se stessi cioè hanno fatto una gran fatica con la sola ragione umana a tenere distinto lo spirito umano da Dio anzi abbiamo delle grandissime religioni come molto elaborate sotto il profilo culturale come l'induismo che addirittura afferma che l'atman, l'anima umana è il Brahma, è Dio quindi mentre la dottrina cattolica la bottiglia biblica come sapete ha saputo tenere ben unite le due esigenze la prima esigenza è di affermare che l'uomo è una creatura e quindi dipende radicalmente da Dio la seconda esigenza che è scritta nell'animo umano quella di superare il finito la dottrina cattolica e biblica l'ha affermata appunto dicendo che l'uomo è immagine di Dio non è Dio l'uomo non è Dio l'anima non è Dio è immagine di Dio riflette Dio è come la luce di uno specchio che è piena di luce ma però non è lei stessa la fonte della luce ora gli uomini hanno in qualche modo peccando fin dai primi tempi fin dalle origini hanno in qualche modo preteso di affermare la propria divinità di diventare Dio al posto di Dio l'abbiamo chiamata questa via alla divinità una via di rapina l'uomo ha cercato e cerca di essere Dio per rapina cosa vuol dire essere Dio per rapina vuol dire negare a Dio la sua divinità negare che Dio esiste e affermare invece la divinità di se stesso la divinità del suo spirito e abbiamo visto anche le varie forme con cui questa rivendicazione si concretizza attraverso le forme appunto pratiche quando l'uomo decide lui stesso ciò che è bene e ciò che è male senza voler assoggettarsi o obbedire una legge eterna una legge morale naturale e abbiamo visto in quanti modi Dio in quanti modi l'uomo nel corso della storia ha divinizzato le creature ha divinizzato anche le sue creature ha divinizzato per esempio lo Stato facendo dallo Stato una specie di Dio lo Stato etico ha divinizzato il partito facendo dal partito appunto la fonte del bene e del male e oggi c'è questa manifestazione questa forma di divinizzazione per rapina noi la chiameremo si realizza attraverso naturalmente l'ateismo però un ateismo diciamo così fra virgolette religioso in quanto si dice appunto che l'umanità stessa è Dio e quindi all'umanità stessa nel suo insieme allo spirito umano nel suo insieme alle conquiste dello spirito umano che sono la scienza la politica il progresso si deve attribuire i caratteri assoluti della divinità non c'è altro Dio al di fuori dell'uomo su questa terra comandiamo noi su questa terra è l'uomo che stabilisce le leggi su questa terra è l'uomo che stabilisce le regole non le accettava Dio su questa terra è l'uomo che è padrone del suo destino poi naturalmente se il Padre Eterno non fa piovere per qualche settimana di seguito oppure il Padre Eterno fa piovere per qualche giorno di seguito ci scordiamo tutti di essere degli dei e naturalmente ci ricordiamo subito di essere dei poveri uomini perché basta poco al Padre Eterno per ricordarci che siamo dei poveri uomini basta pochissimo basta che faccia piovere sulla terra per una settimana o per 40 giorni come al tempo del diluvio e ci dimentichiamo tutti di essere dei ma finché il Padre Eterno nella sua bontà dispense i suoi benefici ecco che noi diciamo noi siamo dei ebbene cari amici questa perversione dell'uomo che divinizia se stesso tuttavia testimonia una verità a suo modo quale verità cioè che l'uomo è fatto per Dio che l'uomo non è un animale che sia contenta di essere animale che non si pone il problema di essere qualcosa di più di un animale l'animale è un sistema finito l'uomo è un sistema che non è finito si mette in questione continuamente cioè l'uomo buca buca la finitezza l'uomo buca sorpassa gli orizzonti del finito e della temporalità e del mondo quindi anche questa tentativo ricorrente continuamente nella storia da Adamo ed Eva fino ai nostri giorni testimonia testimonia che cosa a suo modo testimonia una grande verità cioè che l'uomo è fatto per Dio che l'uomo è riferimento all'infinito solo che che l'uomo aspira a diventare Dio solo che ecco il cristianesimo non nega tutto questo il cristianesimo dice l'uomo diventa Dio riconoscendosi creatura e accogliendo il dono della divinità per grazia l'uomo accoglie da Dio il dono della divinità per grazia e come ci viene fatto questo dono della divinità come ci viene fatto ci viene fatto cari amici attraverso l'incarnazione Dio si fa un uomo per elevare l'uomo alla dignità divina alla partecipazione della natura divina ora cari amici in che cosa consiste questa partecipazione alla natura divina si potrebbe fare un lunghissimo discorso però noi ci atteniamo per non andare troppo in giro nei grandi paesaggi della teologia ci atteniamo strettamente a quanto afferma il catechismo della chiesa cattolica cioè l'uomo diventa partecipe della natura divina in quanto riceve dal verbo in dono la filiazione divina ecco in sostanza in che cosa consiste la nostra partecipazione alla natura divina consiste in questo che il verbo si fa uomo il verbo si unisce alla natura umana Gesù ha una natura umana questa natura umana è fatta di un corpo che è nato dalla Vergine Maria di un'anima creata da Dio perché Gesù oltre a un corpo ha anche un'anima quindi ha una intelligenza umana Gesù ha una volontà umana ebbene la seconda persona della Santissima Trinità si unisce intimamente alla natura umana intimamente profondamente indissolubilmente un'unione che è talmente profonda dalle due nature che le due nature sono unite in un'unica persona l'unica persona del verbo ecco perché la Maria viene chiamata Teotokos madre di Dio non perché Maria generi generi Dio attenzione Maria ha dato soltanto il corpo a Gesù ma perché quando si dice che Maria è madre di Dio vuol dire che quel bambino che è nato da lei a cui lei ha dato il corpo quel bambino è Dio perché la natura umana e la natura divina sono unite in un unico soggetto io l'io di Cristo cioè è un unico soggetto un unico io è un unico soggetto quello che fa il miracolo che assolve dei peccati è un'attività divina è sempre il medesimo che mangia a tavola è un'attività umana cioè il medesimo il medesimo la medesima persona il medesimo io svolge funzioni divine e funzioni umane il medesimo io svolge funzioni divine cioè il nome suo assolve dai peccati il nome suo risuscita i morti ma il medesimo io mangia a tavola suda cammina quindi il medesimo soggetto compie un'attività divina attraverso la sua natura divina e compie un'attività umana attraverso la sua natura umana ebbene cari amici chi è questo soggetto chi è il verbo chi è il verbo che è così intimamente unito alla natura umana è il figlio di Dio generato dal padre Dio da Dio luce da luce Dio vero da Dio vero il verbo che si fa carne è il figlio di Dio generato da Dio uguale a Dio infinitamente amato dal padre e che infinitamente ama il padre ebbene cari amici questo essere del verbo l'essere figlio di Dio l'essere generato da Dio l'essere l'eterno figlio del padre questa figliazione cari amici il figlio di Dio non l'ha tenuta per sé lo dice Paolo in quel bellissimo inno alla lettera ai filippesi che non ha considerato un tesoro geloso da tenere per sé la sua divinità ma si è fatto uomo perché si è fatto uomo? per darcela per donarcela cos'è che ha di suo di unicamente suo la seconda persona della Santissima Trinità cos'è che ha di unicamente suo che è tutto suo la seconda persona della Santissima Trinità ha di tutto suo di unicamente suo il suo essere figlio del padre il suo essere Dio generato dal padre la sua figlioranza divina e ha di tutto suo l'amore che il padre ha per lui e l'amore che lui ha per il padre ebbene cari amici facendo il suo uomo il verbo ci dona tutto ciò che è suo il suo modo di essere Dio che è il modo di figlio ci dona la sua figliazione divina e noi cari amici inserendoci mediante il battesimo e la fede nella santa umanità di Cristo riceviamo in dono la figliazione divina e diventiamo figli adottivi di Dio riceviamo in dono tutto ciò che il figlio ha l'essere figlio anche noi saremo considerati figli ma figli nel senso forte della parola figli nel senso soprannaturale nel senso di essere consanguinei di Cristo come ci spiega Paolo consanguinei quindi partecipi della sua divinità e riceviamo in dono tutto ciò che il figlio ha cioè l'amore che il padre ha per lui e l'amore che lui ha per il padre e cos'è questo amore? è lo spirito santo ecco cari amici è che lo spirito di figli perché è lo spirito col quale lui il figlio ama il padre ed è lo spirito col quale il padre ama il figlio ecco cari amici in che cosa consiste la nostra partecipazione alla natura divina consiste nel ricevere in eredità la figliazione divina e lo spirito d'amore della Santissima Trinità per cui il padre non ci guarda più fuori del figlio ma ci guarda come partecipi del figlio come figli nel figlio e il padre non ci ama più come semplici creature ma ci ama con lo stesso amore con cui ama il figlio e noi cari amici non guardiamo più a Dio con la mentalità di creature quindi di servi o di schiavi ma noi guardiamo al padre così come lo guarda il figlio con amore di figli con fiducia di figli con tenerezza di figli siamo amati nel Cristo Gesù con tenerezza infinita di padre pensiamo all'infinita tenerezza con cui il padre ama il figlio suo uguale a lui nella divinità con quella medesima tenerezza il padre ci ama ma con questa medesima tenerezza noi figli nel figlio amiamo il padre quindi possiamo chiamare il padre così come lo chiama il figlio padre padre perché ci è data la filiazione in dono ma non solo cari amici ma avendo ricevuto spirito filiale avendo ricevuto in dono la filiazione divina noi cari amici possiamo chiamare anche la seconda persona della Santissima Trinità con il nome di fratello la seconda persona della Santissima Trinità che è il figlio del padre siccome la divina filiazione è stata data anche a noi noi possiamo chiamare Gesù con il nome di fratello il fratello Gesù fratello oppure anche amico un amico fraterno se vogliamo dire ma le parole umane qui non possono rendere il mistero di questa nostra unione nel figlio per cui guardiamo al padre col cuore di figli guardiamo al figlio col cuore di fratelli ma nel medesimo tempo non solo il padre ci guarda ci considera come figli così come considera il figlio ma Gesù ci considera fratelli suoi insomma il padre era come se fosse un po' scontento permettetemi questa questo paragone che non dice niente sotto il profilo teologico ma dice qualcosa sotto il profilo emotivo è come se il padre fosse un po' scontento di dover generare un solo figlio e allora pur creando delle creature fuori di Dio le ha elevati la dignità dei figli per dare al figlio dei fratelli e il figlio è grato al padre è grato noi lo vediamo tante volte nei Vangeli come Gesù è grato al padre perché il padre gli ha dato dei fratelli consanguinei partecipi della natura divina e più fratelli li dà più il figlio è contento e il figlio si è fatto uomo perché non vuole che questi fratelli si perdano ha versato il suo sangue perché neanche uno di questi fratelli suoi e figli del padre si perda siamo entrati a far parte della famiglia trinitaria e la Santissima Trinità non vuole che nessuno nessuno di noi uomini figli del padre e fratelli di Gesù andiamo perduti qui Radio Maria abbiamo trasmesso Catechismo della Chiesa Cattolica a cura di Padre Livio Gloria 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 Rinaldo In Ceri Viva Cientel Al Comini Viva Voluntà Gloria Gloria Grazie a tutti.